Ciao a tutti, benvenuti. Questa è l'arte di parlare a regola d'arte. Un doppio spazio sul web, grazie a MSocial Magazine, e qui per video. Io sono Marco De Domenico, uno speaker e doppiatore pubblicitario. Da qua fino a Natale vi insegnerò tutti i segreti che conosco sull'uso professionale della voce. Cominciamo col dire che si è bravi oratori, si è bravi speaker, prima nelle orecchie che non nella bocca, perché è indispensabile imparare ad ascoltarsi correttamente per poter emettere correttamente. Due appuntamenti fissi alla settimana. L'appuntamento con la parola strana della settimana, e quella di oggi è alacre, anziché alacre, ma ne parlerò meglio nel testo che leggerete a corredo di questo video. E un buon esercizio per cominciare a scaldare la voce. La mattina, prima di cominciare a parlare, prima di farlo per lavoro, una cosa molto semplice. Non più di un minuto, vi servirà tantissimo per essere perfettamente sincronizzati con la vostra voce. Ciao, buona lettura!